Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Ci sono dei personaggi storici per cui vale il teorema Braveheart, cioè dei personaggi storici anche importanti, abbastanza conosciuti, che però al grande pubblico vengono più che altro raccontati da grandi film che di storico hanno poco, dimenticando quella che era la loro storia reale, con il risultato che poi su internet si trovano le loro immagini avvicinate a contesti con cui non c'entrano nulla e così via. Io lo chiamo Effetto Braveheart perché, come abbiamo già raccontato nell'epidola dedicata alla storia scozzese, è quello che è successo a William Wallace, che da personaggio reale con tutte le sue contraddizioni, è stato quasi completamente cancellato dall'immagine che di lui, un'immagine assolutamente non storica, che di lui è stata data appunto da Mel Gibson nel film Braveheart. Una cosa simile è successa ad una figura molto interessante nell'ambito della scienza e della storia, cioè ad Ipazia, una scienziata, matematica, astronoma, filosofa, vissuta ad Alessandria d'Egitto all'inizio, tra la fine del IV secolo e l'inizio del V secolo. Una figura di per sé molto interessante, di cui in realtà sappiamo molto poco, e di cui forse la cosa che conosciamo meglio è purtroppo il tragico, il modo tragico in cui è morta. Bene, Ipazia ha subito proprio questo destino Braveheart, perché nel 2009 è uscito un film, peraltro molto godibile, cioè a Gorà, in cui questa scienziata veniva mostrata come una giovane donna intelligentissima, molto avanti per la sua epoca dal punto di vista delle conoscenze scientifiche, paladina del femminismo, paladina della laicità dello Stato, contro l'intransigenza del cristianesimo, che all'epoca stava diffondendo, stava diventando la religione dominante in tutto l'impero romano. Insomma, ne ha trasmesso un'immagine, che è frutto anche di una ricostruzione della sua vita, fatta negli ultimi due secoli, che purtroppo di reale aveva molto, molto poco. Un'immagine che però è diventata l'immagine rappresentativa di Ipazia. Bene, oggi, grazie ad Antonella Romano, che va spesso a scovare di queste meravigliose chicche, proviamo a ricostruire la vera immagine di Ipazia, provando da una parte a capire chi fosse realmente questa donna, provando a capire che cosa sappiamo di lei e come sappiamo qualcosa di lei, perché anche questo è molto interessante, e provando a capire alla fine come probabilmente sia morta e quali fossero realmente i suoi rapporti con il resto della città di Alessandria e con il cristianesimo. E se avete visto il film Agora, partendo magari ogni tanto anche da quello, per capire che cosa sia reale e cosa no. Quindi ripeto, ancora un grandissimo ringraziamento ad Antonella Romano, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Ipazia nacque, molto probabilmente ad Alessandria d'Egitto, tra il 355 e il 360 d.C. Non sappiamo l'anno di nascita, qualcuno lo sposta addirittura al 370 d.C., ma diciamo che la stragrande maggioranza degli storici limita a questa forbice. Non sappiamo il suo anno di nascita, come non lo sappiamo di tantissimi personaggi storici di questo periodo o anche successivi, ed è stato ovviamente desunto da varie fonti. Però ricordatevelo questo periodo perché ci servirà più avanti per smentire un'altra delle tante voci che girano su Ipazia, in particolare sulla sua età, ma ne parleremo dopo. Ad ogni modo, Ipazia, se vogliamo, era una figlia d'arte, perché lei è appunto diventata famosa come scienziata, già il padre, Teone di Alessandria, era un notissimo matematico e astronomo. Di Teone e di Alessandria, a differenza di Ipazia, sono sopravvissute delle opere, anche un buon numero che sono sopravvissute attraverso i secoli, e che ci parlano di un uomo che era sì un matematico e un astronomo che probabilmente aveva anche fatto della ricerca personale, cercando di portare avanti le proprie teorie, ma soprattutto di un grande maestro, un uomo che aveva preso opere del passato, ad esempio gli elementi di Euclide, e li aveva ampliati, aveva ampliato le dimostrazioni, aveva ampliato il modo di spiegarli, e che proprio partendo da queste opere insegnava matematica e astronomia all'interno della Biblioteca di Alessandria. La cosa può sembrare piccola, ma non lo è. Se pensate che, addirittura, fino all'inizio del 1800, quando poi venne trovata un'altra versione, l'unica versione sopravvissuta degli elementi di Euclide, quindi un testo fondamentale per la matematica, era proprio un'edizione fatta da Teone. Questo ci fa capire, ovviamente poi trascritta, quanto quest'opera divulgativa fosse importante. Ora, Teone e Ipazia lavoravano all'interno della Biblioteca di Alessandria, che tutti voi sapete, lo sapete, il nome di questo canale, era questa biblioteca costruita, a quel punto ormai più di sei secoli prima, all'epoca del faraone Tolomeo II, una biblioteca che doveva conservare il più possibile dello scibile umano. Bene, la Biblioteca di Alessandria, nella fine del IV secolo, era purtroppo in decadenza, era stata già danneggiata almeno due volte, una volta era stata danneggiata da Giulio Cesare, quando era sbarcato inseguendo Pompeo, che poi era stato a sua volta ucciso, una seconda volta era stata danneggiata ai tempi dell'imperatore Aureliano, e quindi è probabile che fosse un'istituzione ormai in decadenza, anche perché Alessandria non era più il centro del Mediterraneo orientale, come era stato per tanti secoli. Nonostante questo rimaneva un'istituzione molto importante dal punto di vista culturale, perché all'interno dei vari ambienti della Biblioteca, del Museo, del Serapeo, dei vari ambienti sopravvissuti, fino a quell'epoca ancora si insegnava, ancora grandi maestri, tra cui appunto Teone e Ipazia, insegnavano agli allievi, e si andava ovviamente ad Alessandria per imparare tutte queste discipline. Bene, Ipazia in qualche modo seguì le orme del suo genitore, e qui dobbiamo partire a fare qualche distingo rispetto a quello che normalmente si racconta, perché molto spesso quando si trova in giro informazioni su Ipazia, chi le racconta inizia a dire che Ipazia fosse una grandissima matematica, una grandissima astronoma, che aveva fatto di suo pugno, aveva creato delle teorie rivoluzionarie, aveva creato oggetti a cui nessuno aveva pensato, insomma, lei non solo era la prima matematica donna della storia, e questo in effetti è vero, per quanto ne sappiamo, lei è la prima matematica donna importante conosciuta nella storia, e questo è vero, ma era anche una vera e propria rivoluzionaria, quasi un Einstein in gonnella del IV secolo d.C. Bene, questa è la prima cosa da sfatare, perché, per quanto ne sappiamo, tutto questo non è vero. Ad esempio, si dice di lei che avesse costruito il primo astrolabio, questo oggetto che si utilizzava, o si utilizza ancora, si può utilizzare ancora oggi, per trovare la posizione delle stelle nel cielo. Bene, questa è una sfermazione che non ha nessuna base storica, perché secondo alcune fonti sarebbe addirittura stato inventato nel II secolo a.C., secondo altre sarebbe stato inventato dal padre, D'Ateone. Quello che sappiamo è che lei, Ipazia, insegnava come utilizzare, come costruire questo astrolabio ai suoi allievi, e lo sappiamo grazie alle lettere di uno dei suoi allievi più famosi, cioè un tal Sinesio da Cirene. Ricordatevi questo nome, perché lo rivedremo spesso durante la nostra narrazione. L'astrolabio però non è l'unica cosa che viene ogni tanto affibbiata, la cui invenzione viene affibbiata a Ipazia. Ad esempio c'è il densimetro, che è uno strumento che serve per calcolare la densità di un liquido, che anche in questo caso sappiamo che lei sapeva costruire e insegnava, anche in questo caso ce lo racconta Sinesio, ma che secondo molti è stato inventato addirittura da Archimede, perché funzionava ad altrone con il principio di Archimede. Qualcuno dice che avrebbe inventato il planisfero, ma questo probabilmente aveva già un millennio quando lei insegnava ad utilizzarlo, e addirittura nel film Agora si dice che lei sia stata la prima ad immaginare che i pianeti si muovessero secondo delle orbite ellittiche intorno al Sole. Questa cosa è completamente inventata, lo scoprirà Kepler o di lì a un millennio, quindi insomma manca veramente più di un millennio, manca ancora veramente tantissimo tempo, ed è oltre che completamente inventata, non ci sono nessun fonti che lo dicano, anche inverosimile, perché all'epoca invece si diceva che il moto intorno alla stella era di tipo circolare, e in generale il moto dei pianeti, delle stelle, era di tipo circolare, ed è strano che nessuno abbia mai riportato questa teoria così diversa dalle altre. Quella lasciata dal film ha veramente molto poco di credibile. Tutto questo vuol forse dire che Ipazia fosse poco importante, una figura alla fine di poco rilievo, che è stata ingigantita per altri motivi? In realtà no, perché, ripeto, anche se non sappiamo molto della sua opera originale come matematica, sappiamo però, e questo ce lo dicono tutte le fonti contemporanee, che fosse una invidiabile insegnante, che fosse una donna molto, molto abile, forse ancora più del padre, nell'insegnare questi concetti, che fosse molto abile nel renderli semplici, facili da comprendere, tanto che le sue lezioni erano sempre pienissime di allievi. Insegnava nella biblioteca, dove aveva appunto preso il posto del padre, insegnava a casa sua, addirittura alcune fonti ci raccontano che insegnasse persino per strada, tanto era l'amore per l'insegnamento, per la divulgazione, diciamo così, che spiegava per strada a chi fosse interessato quelle che erano le teorie che conosceva. Inoltre pare fosse molto, molto abile anche nell'utilizzo degli strumenti. Ora, oggi può sembrare una cosa normale, se io voglio imparare ingegneria, devo imparare a utilizzare degli strumenti, gli strumenti che si usano nei laboratori di fisica, e così via. All'epoca non era una cosa così immediata, perché gli strumenti non erano prodotti in gran numero, non erano standardizzati, ma bisognava prendere i libri in cui era riportato, come costruirli, costruirli di nuovo, capire come farli, perché ovviamente anche lì non c'era nulla di standardizzato, bisognava crearli dal nulla, capire come utilizzarli, e per poterlo fare ci voleva una grande, grande mente, oppure un'ottima maestra, che era quello che era Ipazia. E queste sue capacità ci vengono appunto descritte da tanti suoi allievi, tra cui appunto Sinesio di Cirene, che è peraltro un allievo molto particolare, che ci dice un'altra cosa interessante. Gli allievi di Ipazia erano di ogni genere, erano soprattutto di ogni religione. Siamo alla fine del IV secolo, inizio del V, il mondo romano sta vivendo una trasformazione dal punto di vista religioso, ci sono ancora tantissimi pagani, anzi probabilmente sono la maggioranza della popolazione, tra la classe dirigente invece i cristiani sono ormai diventati probabilmente la maggioranza, stanno diventando cristiani gli imperatori, ne stiamo parlando durante la serie Imperatores, ma Ipazia insegnava a tutti che fossero pagani o che fossero cristiani. Appunto, Sinesio di Cirene, pensate, diventerà addirittura un vescovo, un vescovo cristiano, e nonostante questo rimarrà molto legato alla stessa Ipazia. Poi la storia di Sinesio è un po' particolare, perché pensate che divenne vescovo senza essere neanche ancora battezzato, ma si battezzò e si convertì poi definitivamente al cristianesimo solo una volta diventato vescovo. Ma questa è una storia un po' più complessa, magari in futuro ne parleremo. Però è accertato che appunto insegnasse e fosse seguita da tanti allievi di varie religioni. In che cosa credeva però Ipazia? Beh, ovviamente non lo sappiamo. Se aveva una fede privata, tutto questo non è noto. È difficile pensare che credesse ancora agli dèi, sia quelli dell'antico Egitto, sia agli dèi dell'antica Grecia, perché all'epoca le cose stavano in effetti un po' cambiando. Quello che sappiamo è che il suo terzo grande amore dopo la matematica e l'astronomia era la filosofia, in particolare quella neoplatonica. Ora, può sembrare strano, con gli occhi di oggi, la filosofia appartiene alle lettere, la matematica e l'astronomia quanta all'adaltro, ma all'epoca la cosa era abbastanza comune. Anzi, la filosofia era considerata quasi il livello più alto dell'osservazione del mondo, della speculazione sul mondo. E quindi matematici e astronomi spesso erano anche esperti, insegnanti di una particolare filosofia. All'epoca la filosofia più diffusa negli ambienti culturali era quella appunto neoplatonica, che partiva da Platone, attraverso Plotino e arrivava fino a quei giorni. Ora, non sono un esperto di filosofia, anzi, io e la filosofia viaggiamo paralleli e di questo Antonella, che mi ha mandato molto materiale sulla filosofia neoplatonica, mi scuserà, ma non voglio dilungarmi nel parlarne. Ma la cosa interessante dal punto di vista religioso, anche per sfatare altre cose legate alla morte di Ipazia, è che in realtà la filosofia neoplatonica poi venne in parte assimilata all'interno del cristianesimo, soprattutto il cristianesimo della parte occidentale dell'impero. Questo perché in realtà aveva già delle idee che, seppur diverse ovviamente da quelle cristiane, in qualche modo si potevano instradare in un senso o nell'altro. Ad esempio parlava la filosofia neoplatonica di un'entità, che poteva essere chiamato ad esempio uno, da cui aveva avuto origine tutto, e questo ovviamente in qualche modo si sposava bene con il cristianesimo. Insomma, forse tra tutte le forme di paganesimo era una di quelle più facilmente accettate. Parleranno di tutto questo, parlerà ad esempio Sant'Agostino, insomma era un discorso molto più ampio, se volete approfondirlo vi rimando ad altri video che ne parlano meglio di me, io, ripeto, è la filosofia, non ci capiamo troppo. Insomma, Ipazia era una donna ad Alessandria d'Egitto molto rispettata, una scienziata, una maestra, donna, è vero, ma che tra uomini e donne era sicuramente una delle più rispettate e amate della città di Alessandria. Ora, vivere all'epoca ad Alessandria d'Egitto, dal punto di vista religioso, sicuramente non era facilissimo, mettiamolo in chiaro. Gli editti teodosiani avevano vietato ai pagani di frequentare i templi e nel 391 d.C. l'allora vescovo di Alessandria, Teofilo, aveva cercato lo scontro con questi pagani, aveva chiesto all'imperatore di avere il permesso di chiudere direttamente i tempi, aveva chiuso il tempio dedicato a Mitra e addirittura aveva avuto il permesso di trasformare il tempio di Dioniso in una chiesa. I suoi fedeli, i cristiani vicini alle posizioni del vescovo, avevano quindi, erano quindi passate all'attacco, avevano assaltato questi templi, li avevano danneggiati, avevano asportato gli arredi sacri, tutto quello che si trovava all'interno e li avevano trasportati attraverso la città dissacrandoli. Inutile dire che la cosa aveva scatenato la reazione dei pagani, vi erano stati degli scontri, delle violenze, secondo alcune fonti iniziare queste violenze erano stati i pagani, secondo altre erano stati i cristiani, diciamolo chiaramente, le fonti più credibili dicono questo, ma comunque non c'è ovviamente la certezza di come siano iniziate le cose. Quello che è certo è che ad un certo punto Teofilo diede ordine ai suoi di assaltare i pagani creando un vero e proprio massacro. In tutto questo, che cosa faceva Ipazia? Era schierata dal lato dei pagani? In realtà non lo sappiamo, non c'è modo di saperlo, nonostante quanto viene detto più volte, a volte si confondono le due storie inserendo la morte di Ipazia in questo momento, ma non è vero. In realtà, per quanto ne sappiamo, Ipazia doveva essere abbastanza lontana da queste lotte ed è difficile pensare che fosse in pessimi rapporti con Teofilo. Probabilmente non amava questo stato di scontro all'interno della città, ma dall'altra parte è difficile che lei stessa fosse in opposizione a Teofilo se pensiamo che Teofilo fu uno di coloro che appoggiarono la nomina a vescovo di Sinesio di Cirene. Quindi è difficile pensare che avrebbe appoggiato la nomina a vescovo, peraltro vescovo abbastanza importante, di un uomo così vicino ad una sua nemica. Anche perché, diciamolo chiaramente, questo lo si capisce benissimo, Teofilo era un uomo tutt'altro che portato all'accordo, anzi, era uno che cercava lo scontro, per carità, a gloria del cristianesimo, ma in realtà senza farsi grossi problemi a non porgere l'altra guancia, ma invece ad attaccare. Non sarà però Teofilo l'uomo, appunto, che causerà gli scontri che porteranno alla morte di Pazia, ma suo nipote Cirillo. Ora, alla morte di Teofilo, Cirillo riuscì a farsi eleggere il nuovo vescovo di Alessandria. In realtà, più che a farsi eleggere, riuscì a farsi scegliere al termine di una lunga e violenta faida con un altro possibile candidato, cioè Timoteo. E ho detto veramente una faida, ci furono degli scontri per decidere chi dovesse diventare vescovo, e in effetti Cirillo era, se possibile, meno apprezzato rispetto allo zio, perché era considerato ancora più fanatico, ancora più violento, ancora meno portato all'accordo, e per questo molti di coloro che avevano magari apprezzato, comunque appoggiato il suo predecessore, vi si allontanarono, tra cui, ad esempio, Sinesio di Cirene, che diciamo pure nelle sue lettere, ne dice peste e corna. Ad ogni modo, Cirillo, ben presto, entrerà in scontro praticamente con chiunque. Entrerà in scontro con la comunità pagana, con la comunità ebraica, entrerà soprattutto in scontro con le autorità politiche di Alessandria d'Egitto, in particolare con il prefetto Oreste, il quale era a sua volta cristiano, anche questo è importante, ma probabilmente preferiva che in città non ci fossero tumulti e non ci fossero scontri. Nel 414 d.C. Cirillo decide di alzare il livello dello scontro. E come fa? Beh, vietando la danza pubblica. All'epoca la danza pubblica era una manifestazione molto apprezzata soprattutto nella comunità ebraica, che legava a questa danza anche alcuni aspetti religiosi, nonché ad alcune feste comunitarie, ed era ovvio che vietare un qualcosa di così specifico servisse espressamente per colpire loro. Il risultato fu che la comunità ebraica, subito questo divieto, si rivolse all'autorità civile, cioè proprio ad Oreste, chiedendo che intervenisse per porre fine a questo bando. Mentre però la comunità, i capi della comunità, si stavano rivolgendo ad Oreste, notarono che tra la folla, in mezzo agli ebrei, c'era anche un cristiano, tal Ierax, o Ierace, si trova nelle due forme sui libri, il quale non solo era cristiano, non ebreo, ma era anche un fedelissimo di Cirillo, un fedelissimo che già più volte Cirillo aveva utilizzato per scatenare dei tumulti aizzando la folla. Compreso che la sua posizione lì, verosimilmente, serviva proprio a scatenare quei tumulti, gli ebrei lo presero, lo consegnarono ad Oreste e gli chiesero di occuparsi di lui. E Oreste, per dimostrare di essere super partes, lo prese e lo torturò per scoprire perché si trovasse lì. La risposta di Cirillo fu ovviamente violenta, iniziò ad attaccare i capi della comunità ebraica, li minacciò, minacciò di distruggere le loro sinagoghe e a loro volta gli ebrei risposero scatenando dei tumulti e attaccando le posizioni cristiane. Ma dato che i cristiani erano più numerosi, non solo risposero a quegli attacchi, ma addirittura incendiarono le sinagoghe e giunsero per ordine di Cirillo a cacciare gli ebrei da Alessandria. Secondo alcune fonti, cacciando l'intera comunità, secondo altre cacciandone solo una parte. E in effetti, nei secoli successivi, viene più volte riportato che in città vi fossero delle comunità ebraiche, ma molto più piccole rispetto a quelle che c'erano state fino a quel momento. Il prefetto Reste, di fronte a questi scontri, purtroppo poteva fare poco, perché essendo un'autorità religiosa, un vescovo Cirillo, avrebbe dovuto essere giudicato dalle alte sfere religiose, così diceva la legge, alte sfere religiose che sicuramente non sarebbero intervenute contro di lui. A questo punto, Reste decise di appellarsi più in alto di tutti, cioè direttamente all'imperatore, cosa che in effetti fece anche Cirillo, scatenando una vera e propria lotta di potere ad Alessandria, una lotta di potere che serviva anche a capire chi realmente comandasse in città, tra il potere civile e quello invece religioso. Gli scontri, inutile dire, che continuarono. Continuarono anche perché Cirillo, che probabilmente aveva capito che presto si sarebbe ancora salito di livello in questi scontri, aveva mandato a chiamare in città 500 parabolani. Cos'erano i parabolani? Bene, in alcune fonti vengono definiti monaci. In realtà non erano dei monaci, non prendevano i voti, ma erano delle figure, potremmo dire, di fanatici religiosi, i cui nome letteralmente vuol dire coloro che rischiano la vita. Sulla carta dovevano essere coloro che accudivano gli appestati, si occupavano di situazioni particolarmente rischiose. In realtà in quel periodo erano diventati praticamente dei gruppi di picchiatori al servizio delle autorità religiose, molto spesso giravano con dei bastoni, con delle pietre, e venivano utilizzati o come forma di sicurezza o appunto negli scontri quando questi avvenivano in città. E sarà esattamente quello che faranno, perché i parabolani insieme ai fedeli di Cirillo inizieranno a scatenare una serie di violente manifestazioni in tutta la città e quando Oreste cercherà di intervenire per fermare la manifestazione, uno di loro addirittura gli si farà addosso e lo colpirà violentemente in testa. Oreste riuscirà però a scampare all'agguato, farà catturare proprio Ammonio e, cercando ovviamente prove contro Cirillo, inizierà a torturarlo. Purtroppo per lui la tortura andò troppo oltre e Ammonio morì prima di aver rivelato alcunché. Cirillo ovviamente cercò di sfruttare la situazione, prese il corpo di Ammonio, lo fece portare in una chiesa e addirittura cercò di dichiararlo martire, un martire della fede, ma bisogna dire che probabilmente, questo ci dicono le fonti, fu, non dico deriso, ma quantomeno poco seguito anche dai suoi stessi fedeli, dagli altri cristiani della città, anche perché era ben chiaro, essendo Oreste cristiano, ripetiamolo perché anche questo a volte viene sbagliato, Oreste cristiano e era ben chiaro che il motivo della tortura era legato all'attacco e non ad una richiesta di abbiurare la fede come succedeva con i martiri dei secoli precedenti. Chiuso questo tentativo di risolvere in questo modo di portare dalla sua parte il popolo, Cirillo cercò un accordo con Oreste, accordo che però Oreste almeno inizialmente negò, rendendosi conto che se avesse accettato di porre Cirillo sul suo stesso piano, gli sconti probabilmente presto sarebbero ripresi. Ma in tutto questo, che cosa centrava Ipazia, che, lo abbiamo detto, non era sicuramente ebrea, non era legata a Cirillo, insomma, che cosa centrava Ipazia? Beh, nel 414, se vi ricordate la data di nascita, e anche questo è interessante, Ipazia aveva quasi 60 anni, tra i 54 e i 59 anni. Quindi, innanzitutto, non era la giovane donna che viene mostrata nel film Agorà, non era la giovane donna che viene mostrata praticamente dovunque nei quadri, quella è un'invenzione successiva dal 1800 in poi, 1700-1800 in poi, ma era una donna ormai data l'epoca, anche abbastanza anziana. Era però una donna che, come abbiamo già detto prima, era molto apprezzata e considerata molto saggia, e che per questo era diventata una dei consiglieri di Oreste, e probabilmente era tra coloro che avevano consigliato ad Oreste di non chinare il capo di fronte a Cirillo, ma cercare di riportare la calma in città. Che cosa è successo a questo punto? Non lo sappiamo esattamente, ma abbiamo due versioni diverse. La prima è una versione praticamente contemporanea, scritta una trentina d'anni dopo da una persona che però era già viva all'epoca, cioè Socrate Scolastico, che è un autore cristiano che appunto scrive una trentina di anni dopo. La seconda è invece un'opera di Damascio che è uno scrittore pagano che vive un secolo dopo e le due versioni non collimano esattamente. Perché? Secondo Damascio, partiamo da qua, a questo punto Cirillo, resosi conto di quanto fosse importante Ipazia e soprattutto resosi conto che poteva essere un ostacolo per i suoi tentativi di prendere il controllo della città, diede ordine ai suoi uomini di catturare la maestra, catturare la scienziata e ucciderla. Secondo Socrate Scolastico invece, Cirillo si limitò, tra virgolette, a dire pubblicamente che secondo lui il motivo per cui lui e Oreste non trovavano un accordo era proprio legato a Ipazia, che era lei ad impedire l'accordo tra i due e la fine dei tumulti. Secondo Socrate Scolastico non sarebbe stato Cirillo direttamente ad ordinare la morte di Ipazia, ma sicuramente il clima infame, passatemi termine, che aveva creato in città fu quello che, questo lo aggiungo io, non lo dice Socrate Scolastico, agevolò l'assassinio della scienziata. Come morì Ipazia? Beh, la cosa viene raccontata in tutte le fonti in maniera molto simile, quindi verosimilmente purtroppo era vero. Mentre stava attraversando la città probabilmente su una portantina, anche se alcuni traducono un termine come carro, si donano varie forme, ma probabilmente su una portantina venne raggiunta ad alcuni di questi parabolani o altri facinorosi vicini a Cirillo che la tirarono giù dalla portantina, la trascinarono in una chiesa vicino e qui, dopo averla spogliata, la aggredirono usando dei cocci. C'è una leggenda che dice che fossero delle conchiglie, ma molto probabilmente nasce da un errore di traduzione, in realtà erano dei cocci, cioè avevano preso delle tegole, le avevano rotte e spaccate a metà dei piatti e avevano iniziato a colpirla facendola letteralmente a pezzi. Avevano poi preso i pezzi, li avevano sparsi e avevano così dimostrato la morte di Ipazia. Una morte del genere era una morte orribile ed inutile dire che anche all'epoca, data anche l'importanza della donna che era stata uccisa, fece una grande impressione. Sappiamo che venne aperta addirittura un'inchiesta per cercare di dimostrare chi fossero i reali colpevoli, un'inchiesta che però, grazie all'appoggio di cui Cirillo godeva presso la corte di Costantinopoli, venne ben presto insabbiata e la morte di Ipazia venne non dimenticata ma non ricevette mai la giusta punizione per chi l'aveva causata. Secondo alcuni storici, quella morte fu anche un avvertimento. Uccidendo Ipazia si andava in realtà a colpire e a minacciare tutti quei circoli aristocratici, ricca borghesia o circoli culturali che appoggiavano proprio la figura di Oreste contro il fanatismo di Cirillo. Cirillo, che peraltro negli anni successivi acquisì sempre maggiore importanza, divenne uno dei vescovi più famosi all'interno dell'impero romano e pensate, nonostante questo suo carattere non esattamente, ripeto, da porgi l'altra guancia, oggi è considerato santo dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Ortodossa e anche dalla Chiesa Copta. Santo ovviamente non per i massacri di Alessandria ma per le sue opere teologiche ma questo ci fa capire come alcuni santi dell'antichità forse andrebbero un po' rivisti. A proposito di santi, c'è, e qua lo usiamo per chiudere la puntata, una storia molto interessante perché esiste in effetti una santa proveniente da Alessandria che si chiama Santa Caterina d'Alessandria la quale, secondo i martirologi, sarebbe nata, sarebbe, chiedo scusa, morta sotto l'imperatore Massimino d'Aia il quale è uno degli ultimi imperatori a perseguitare i cristiani avrebbe perseguitato i cristiani di Alessandria portando proprio alla morte di questa Caterina appunto diventata Santa Caterina e ci sono chiese dedicate a Santa Caterina d'Alessandria in tutta Europa anche in Italia ce n'è una pensate anche qui vicino ad Asti. Bene, Santa Caterina d'Alessandria molto probabilmente non esiste perché di lei non ne parla nessuna fonte contemporanea non abbiamo notizie di martiri in quel periodo ad Alessandria e le prime fonti che ne parlano sono addirittura successive di tre secoli alla sua morte e peraltro si sbagliano perché nominano come imperatore Massenzio che se avete seguito la serie di imperatore sapete essere un imperatore che ha regnato in Occidente quindi sicuramente non ad Alessandria secondo alcuni in realtà questa Santa Caterina d'Alessandria che pensate durante il ventesimo secolo per quasi una quarantina d'anni è stata sospesa tra virgolette dall'elenco dei martiri proprio perché non si sapeva niente di reale su di lei poi è stata riammessa da Giovanni Paolo II ma questa è un'altra storia ad ogni modo secondo alcuni Santa Caterina d'Alessandria sarebbe in realtà una versione religiosa di Pazia anche perché la sua morte non sarebbe stata così diversa rispetto a quella patita dalla scienziata perché il suo culto si è poi sviluppato dopo la morte di Pazia e sarebbe stato un tentativo di prendere appunto la figura di Pazia quella reale e farla utilizzare la sua leggenda per dare maggior gloria al cristianesimo è una teoria molto affascinante quindi qualcuno sicuramente me l'avrebbe riportata ma dato che questa puntata serve per sfatare miti che si sono diffusi è anche una teoria che non ha nessuna prova a riguardo perché se è vero che non abbiamo nessuna informazione sulla Santa Caterina reale dall'altra parte non abbiamo nessuna informazione che ci permetta di associare realmente Santa Caterina di Pazia quindi anche questa è una teoria ripeto senza particolari prove e particolare fondamento anche se devo dire molto molto affascinante e questo direi che è tutto spero che sia stata una puntata interessante o invece che fare semplicemente la biografia ho provato proprio a lavorare insieme ad Antonella abbiamo provato la ringrazio tantissimo Antonella Romano non avete idea di quanto materiale mi abbia mandato un materiale scritto da lei per altre 30 pillole pian pianino le andremo a sviluppare ma in questo caso insieme abbiamo provato a lavorare anche nello sfatare alcuni miti perché purtroppo sui Pazia si trova tutto il controllo di tutto su internet spero che siamo riusciti a raccontare una figura che anche grattando via tutto quello che viene aggiunto e che non ha nulla di storico rimane molto molto affascinante e sicuramente una figura molto rara per l'epoca cioè quella di una donna scienziata o di una donna maestra in queste materie quindi non serve inventarsi cose per avere una figura che invece è già molto molto interessante di suo ad ogni modo ringrazio ancora tantissimo Antonella Romano e come sempre ringrazio abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal perché grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti grazie al loro aiuto riusciamo a produrre più materiale a disposizione di tutti e oggi in particolare vorrei ringraziare tantissimo Anna Di Curzio grazie mille tantissimo per il tuo aiuto e questo vale per tutti abbonati Patreon chi fa donazioni troverete su questo canale e ovviamente anche su Patreon il resoconto mensile del mese appena passato così potete anche vedere come quei soldi sono stati utilizzati per produrre più materiale più pillole per tutti per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco ci rinco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao